Terza partner conference di QNAP, incontriamo il partner Hermes e facciamo un'istantanea di questa realtà e vediamo la relazione e il valore della partnership con QNAP. Noi abbiamo iniziato da un po' di anni con QNAP e abbiamo sviluppato nel tempo un mercato fatto di applicazioni di storage, di file server e di backup. Siamo soddisfatti di questa azienda, siamo soddisfatti del rapporto che abbiamo con loro, abbiamo a nostro giudizio tra le mani un prodotto di grande affidabilità e questo valore di affidabilità è percepito in maniera forte dai nostri utenti. Credo che forse sia il valore principale che questa azienda trasmette e devo dire anche che offre un supporto in termini di relazione con i partner anche molto caldo, molto friendly, molto disponibile all'affrontare e a risolvere i problemi. Siete staliti sul palco come premiati, come partner long distance da dove venite e vediamo un attimo ancora quali gli ambiti dove si sviluppa a pieno la sinergia con QNAP lì al sud. Allora noi veniamo da Napoli e quindi abbiamo fatto tantissima strada, più degli altri evidentemente per essere stati premiati. Nel nostro territorio ci occupiamo principalmente di mercati della pubblica amministrazione locale e dell'education, quindi scuola e università, che sono ambienti particolarmente interessati alle performance e ai prodotti offerti da QNAP e ai contenuti dei servizi che sono all'interno dei prodotti. Se dovesse riconoscere dei plus di questo vendor, appunto elementi distintivi magari rispetto ad altri vendor di storage? Guardi, parliamo di un prodotto che ha una grandissima affidabilità, enormemente percepito dagli utenti finali perché il prodotto nel tempo si dimostra sempre affidabile. Questo è sicuramente un valore da attribuire alla dimensione produttiva dell'azienda. Diciamo che in Italia hanno un bel team, molto caldo nel seguire i partner, molto disponibile, molto presente, che fa molta attività di affiancamento e che quindi soddisfa le nostre aspettative di piccola impresa che ha bisogno di lavorare col proprio partner. Grazie.